È il giorno della Porta Santa, tanti pellegrini nonostante il maltempo con gli ombrelli che stanno attraversando la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Colemaggio e uscendo poi da quest'uscita sinceramente pentiti e confessati per ottenere l'indulgenza. Il tempo un po' ha rovinato le presenze però il passaggio sotto la Porta Santa è sempre importante, è sempre una cosa molto emozionante alla quale gli aquilani sono legati ma non solo perché ci sono anche tante persone da fuori l'Aquila. Il maltempo l'ha fatta da padrone ma nonostante tutto questa mattina molti fedeli muniti di ombrello erano alla Basilica di Santa Maria di Colemaggio per attraversare la Porta Santa e lucrare l'indulgenza plenaria. Le persone non rinunciano al significato religioso di questa festa che è anche popolare ma il messaggio di Celestino V continua ad essere attuale e a raggiungere tante persone che all'Aquila anche per le vacanze rimangono affascinate dal giubileo più antico della storia. Signora, siete dell'Aquila? No. Da dove venite? Da Lecce. Quanto è bello passare sotto la Porta Santa? Lei ha sentito la storia di Celestino? Sì, è un'emozione meravigliosa, bisogna solo provarla. Siete venuti per la perdonanza o in vacanza? Anche in vacanza, ho unito vacanza e perdonanza. È una bella festa? Bellissima. Buongiorno, lei è dell'Aquila? Sì, sì. È un'emozione sempre, è una cosa che si fa passare sotto la Porta Santa? Eh beh sì, come no. La visita del Papa l'anno scorso, quest'anno con che spirito è venuto lei? Con lo stesso spirito. Che effetto fa? È una tradizione, insomma una cosa religiosa molto importante passare sotto la Porta Santa. Lei ha portato anche i bambini? Sì, hanno partecipato anche al corteo, proprio perché siamo dell'Aquila e sentiamo questa festa nostra. È molto importante l'anno scorso il Papa, però lo spirito degli Aquilani è sempre lo stesso. Eh, speriamo diventi sempre più grande e più forte. Grazie.